Quindi in questo ultimo tratto di lezione andiamo a vedere gli esercizi che fanno parte della programmazione in Python. Sono esercizi non di programmazione ma diciamo così sulla teoria legata a come funzionano i programmi in Python, i costrutti eccetera, quindi vedere che non c'è da scrivere del codice ma più che altro da spiegare come funzionano. Ad esempio vediamo la domanda numero 1, ci chiede di spiegare il concetto di alias in Python e i potenziali problemi ad esso correlati, quindi questi alias durante la scrittura del codice. Allora quello che io scriverei, quindi per la domanda numero 1 sugli alias direi che si dice alias una variabile che faccia riferimento allo stesso dato, stesso valore di un'altra variabile. Ad esempio se A è uguale una lista 1, 2, 3 e scrivo B uguale A, allora sarà un alias per la stessa lista, perché esiste una lista sola 1, 2, 3, ricordate le cose che guardavamo sul Python Tutor e abbiamo due variabili che si chiamano A e B che puntano alla stessa variabile, alla stessa valore, che è una lista. I problemi, ci sono problemi di due tipi, il primo tipo è quello più banale del tipo che le modifiche fatte ad A influenzano anche B e viceversa, e questo è chiaro, perché in realtà sono lo stesso oggetto, lo stesso valore che si può accedere in due modi diversi. L'altro problema invece è un pochino più subdolo, che nelle funzioni, soprattutto nelle funzioni, c'è il rischio bisogna fare attenzione a non perdere l'alias qualora la funzione debba modificare il valore passato. Quindi ricordate, ad esempio, che non devo fare A uguale A più, cioè se B fosse paramento della funzione, non devo fare B uguale B più, che ne so, 4 in questo caso B non è più un alias ma punta ad una nuova lista che è la nuova lista costruita dall'operatore più altrimenti uno dovrebbe fare P.extend 4 allora in questo caso viene estesa la stessa lista di prima quindi questo aveva un po' ragionato su queste cose quando nel capitolo sulle funzioni e liste passate alle funzioni ok punto 2 perché in python i dizionarii sono chiamati così a me sembra una domanda un po' scema però c'era il dizionario perché mette in collegamento, mette in relazione una chiave con un valore come in un dizionario in cui a ciascuna parola c'è una chiave, il dizionario lo cerco per chiave associo una descrizione spiegazione e l'altra cosa che al dizionario si fa sempre accesso per chiave anche il dizionario di carta io lo apro perché voglio so già la parola che sto cercando non è che lo sfoglio a caso o dalla prima parola verso l'ultima quindi so sempre qual è la chiave a cui accedere anche il dizionario di carta io voglio trovare la parola che ne so relazione allora apro il dizionario cerco cerco la parola cerco la parola nel tempo più breve possibile quindi è ottimizzato per l'operazione di ricerca di una singola chiave che nel caso del dizionario di carta appunto è una parola quindi se la ciascuna sia di carta che python quindi lo apro cerco un termine e poi non mi interessa cosa viene prima cosa viene dopo e in che ordine sono gli elementi io avrei risposto così a questa domanda un po' strana ecco al dizionario con la L poi vediamo cosa viene chiesto dopo dove per tanto questi concetti riassunti in realtà sono lungo tutto il corso non c'è un riassunto queste domande qui non sono domande la cui risposta può essere puntuale oppure sono semplicemente ciò che avete capito e imparato dei concetti che abbiamo spiegato lungo tutto il corso adesso sulla parte sull'alias ad esempio c'è una parte delle slide appunto dove si parla di funzioni liste e funzioni c'è un capitolo che si chiama liste e funzioni sì sulle slide sul libro sul dove l'idea di queste domande è che oltre a diciamo così quando avete studiato oltre diciamo così aver imparato a scrivere le istruzioni avete anche capito che cosa che cosa fanno queste varie singole istruzioni perché un dizionario diverso da una lista qual è il suo meccanismo di funzionamento che differenza c'è tra queste due istruzioni quindi magari uno programmando lo sa fare ma per saperlo fare deve aver capito il concetto che sta a monte quindi in realtà sono un modo diverso di raccontare le informazioni che dovreste avere questa differenza la dovete sapere se vi serve se volete scrivere un programma corretto quindi da un lato nella parte di programmazione la dovete scrivere giusta nella domanda di teoria vi chiediamo di spiegare perché in qualche modo è la stessa conoscenza non mi sembra che ci sia da studiare in più rispetto ad aver assimilato e compreso i costrutti di programmazione qual è lo scopo principale questo è facilissimo dell'indentazione nel linguaggio Python fare un esempio in cui essa risulti di vitale importanza quindi l'indentazione serve per delimitare i blocchi nei costrutti if, while, for, eccetera e quindi ad esempio se io facessi un esempio in cui risulti di vitale importanza cioè vuol dire che il programma fa due cose completamente diverse a seconda dell'indentazione quindi io potrei pensare ad esempio se A maggiore di 0 ho due punti print A e poi ho un print B e è diverso rispetto al caso in cui la print B sia anche allineata dentro l'IF quindi alla fine questa operazione che vi deve essere fatta non solo in un caso in quest'altro caso nel primo caso viene fatta in entrambi i casi quindi devo capire se questa istruzione fa parte o non fa parte di questo IF e questo lo capisco solamente grazie all'indentazione io non avrei una cosa di questo genere non l'avrei scritta perché questo è un errore di sintassi perché è vietato non indentare se ho due punti poi sono obbligato a indentare quindi vado a indentare poi magari l'errore lo posso fare sulla riga successiva che devo decidere se deve essere ancora a sua volta indentata perché sono dentro la IF oppure deve essere al di fuori della IF questo potrebbe essere un IF potrebbe essere un while potrebbe essere un qualunque costrutto diciamo così di controllo e quindi in questo caso questa qua viene fatta sempre e questa invece viene fatta solo se è maggiore di zero ok domanda 4 cosa ci chiede? ci chiede fornire un esempio in cui l'ordine nelle istruzioni e l'IF influenzi il risultato finale quindi questo vuol dire che dobbiamo scrivere delle istruzioni IF, ELIF, ELIF con le stesse condizioni ma che cambiando l'ordine il risultato possa cambiare allora questo significa che se noi avessimo nelle varie condizioni nei vari rami delle condizioni che sono tutte disgiunte una dall'altra faccio un esempio prima se io avessi IF A uguale 0 uguale 1 fai qualcosa qualcosa A ELIF A uguale 2 qualcosa 2 ELIF A uguale 3 qualcosa 3 queste istruzioni le posso rimescolare a piacere perché queste condizioni A uguale 1 A uguale 2 A uguale 3 sono condizioni incompatibili tra di loro se ne verificherà sempre solo una ok quindi posso controllare spostare mettere 3 2 1 anziché 1 2 3 e il comportamento del programma non cambierà però cambierebbe invece se io mettessi un maggiore ad esempio ok allora in questo caso ho costruito delle condizioni che non sono separate tra di loro ma sono sovrapposte in questo caso sono un sottinsieme di quella precedente allora in questo caso IF A maggiore di 1 faccio qualcosa se è maggiore di 1 chiaramente e quindi questo blocco qua non lo raggiungerò mai e quest'altro non lo raggiungerò mai perché perché se A era maggiore di 1 ero entrato di qua e quindi essendo degli ELIF queste parti non vengono considerate perché sono già entrato nel primo ramo ok e quindi non capiterà mai che io arrivi qui con A maggiore di 2 perché se è maggiore di 2 matematicamente è anche maggiore di 1 e quindi sono già entrato qua se invece cambiassi l'ordine di queste cose e quindi avessi prima 3 poi 2 poi 1 quindi 3 poi 2 poi 1 allora ricado nel primo caso in cui A maggiore di 3 nel secondo caso ricado se A è maggiore di 2 ma minore di 3 in realtà minore uguale a 3 perché vuol dire che se A è maggiore di 3 ricado qua se no A non sarà maggiore di 3 cioè A è minore uguale può essere maggiore di 2 allora se è maggiore di 2 ricado qua e con A maggiore di 1 ricado se A è maggiore di 1 ma minore uguale a 2 ok quindi una catena di ELIF qualora questi ELIF non siano mutuamente esclusivi ma siano sovrapposti e conviene sempre partire dalla condizione più restrittiva e poi via via allargarsi perché altrimenti se parto da quella più ampia nelle altre non ricadrò mai più nonostante se io leggo il codice a prima vista mi sembra di dire ok ma se è maggiore di 2 faccio questa parte in realtà no perché la condizione maggiore di 2 è già stata mangiata fagocitata da una condizione più ampia che la conteneva in precedenza ok quindi in questo caso bastava fornire un esempio di questo tipo questo è il più semplice che mi è venuto in mente con dei numeri poi il 5 cosa mi chiede un programmatore vuole rappresentare delle matrici di numeri nella propria applicazione ad esempio vuole rappresentare questa matrice e questa è disegnata diciamo così come se la disegnassimo su un foglio di carta matematicamente il programmatore ha pensato a tre possibili rappresentazioni di questa matrice si discutono brevemente i vantaggi i vantaggi e i svantaggi delle tre opzioni indicando se alcune di esse si devono considerare errate quindi qui mi sta chiedendo guarda tu vuoi rappresentare questa struttura dati che è una matrice io ti faccio vedere tre modi diversi di costruire delle strutture dati in python ok in cui ci sono quei numeri 1 2 3 4 dimmi se per alcune di queste strutture mi dici è sbagliato oppure se non sono sbagliati nel senso che non si deve fare così oppure se non sono sbagliati quali sono i casi in cui può convenire l'una oppure l'altro oppure l'altra ancora per rappresentare questa matrice allora proviamo a commentarle una per una allora quella più naturale per noi è la seconda quella che abbiamo sempre usato la rappresentazione 1 2 3 4 la rappresentazione la rappresentazione diciamo così come lista di liste per righe nel senso che la prima lista contiene la prima riga la seconda lista contiene la seconda riga quest'altra rappresentazione potrebbe essere vista come una rappresentazione come lista di liste però per colonne quale dei due è giusta e quale è sbagliata ma mi sembrano entrambe potenzialmente giuste la prima è quella più naturale diciamo così più comune più intuitiva questa seconda invece è meno comune potrebbe essere utile se devo se devo elaborare per colonne ad esempio se mi serve la somma delle colonne la media delle colonne il massimo delle colonne beh in questa seconda rappresentazione è molto più comoda perché basta fare un sum un max un una somma un operatore aggregato direttamente sulla prima sulla seconda sottolista mentre invece nel primo caso è più facile fare una somma per righe che non per colonne invece per fare la somma per colonne devo andare a prendere il singolo elemento di ogni singola riga no? è un pochino più complicato è asimmetrica questa rappresentazione cioè da una parte vengono favorite le righe dall'altra vengono favorite le colonne quindi questa è la rappresentazione preferibile ma perché è quella più intuitiva quella che ci si aspetta quest'altra non è sbagliata bisogna fare attenzione perché è girata al contrario è trasposta in qualche modo questa matrice ma se le operazioni che devo fare sono operazioni prevalentemente sulle colonne perché no? non è sbagliato farlo sono io che decido di rappresentare questi dati in un modo un po' diverso dal solito perché magari mi conviene la prima rappresentazione invece diciamo così rappresenta i dati in modo lineare dove non si vedono più 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 le righe e le colonne è quella che è più distante rispetto alla presentazione della matrice quindi non mi sento di dire che è sbagliata perché di nuovo per alcuni tipi di applicazioni potrebbe andare benissimo no? però significa che diventa difficile più complesso accedere un elemento conoscendo righe e colonna perché mentre prima faccio in questo caso potrei fare matrice di riga colonna per accedere un elemento e nel caso sotto lavoro al contrario farò matrice di colonna riga ma ci arrivo comunque e nell'altro caso devo fare una cosa un pochino più complicata tipo matrice di riga per numero di colonne più colonna cioè devo farmi i conti io di dove si troverà lasciamo perdere i dettagli di questa formuletta ma se la riga è 0 avrò 0,1 se la riga è 1 avrò 2,3 come indici e quindi è più macchinoso sicuramente andare a accedere ai risultati non escludo che ci siano alcuni tipi di programmi alcuni tipi di elaborazione per cui magari questo risulti più comodo però tra tutti è quella diciamo così meno preferibile nella maggior parte dei casi non posso dire sbagliato perché magari ci sono dei casi in cui conviene no e i dati ci sono e sono comunque reperibili li posso trovare e capisco e posso diciamo così guardando questo capisco come è fatta la matrice se se sto seguendo questa convenzione no però è un po' scomodo lavorare immaginate se dovessi trovare il dato la matrice più grande da mio elemento e ti chiedono qual è quello sopra sotto sinistra destra e che abbiamo fatto un'operazione che abbiamo fatto molte volte ecco quando sono tutti linearmente messi così diventa più complicato trovare dove sono i suoi vicini capire dove andarle trovare quindi avrei risposto in questo modo questa la la presentazione normale quella comune questa è altrettanto valida ma è un po' meno comune quindi bisogna fare attenzione perché è girata al contrario ma potrebbe avere senso se devo fare la procedura per colonna questa non è del tutto sbagliata però diciamo così è molto diversa da quello che si fa normalmente è molto è poco diciamo così simile la rappresentazione in python è poco simile alla rappresentazione dei dati che voglio rappresentare a monte e cose di questo genere sbagliato non lo direi a nessuna nel senso che in tutti e tre casi i dati vengono rappresentati in modo più o meno comodo a seconda delle operazioni che ci devo fare dunque passiamo alla domanda successiva no? che era la 6 allora la 6 cosa mi chiede? eccola qua mi chiede spiega il concetto di visibilità di una variabile e indica la differenza da variabili locali e variabili globali allora la visibilità di una variabile è la porzione di codice in cui tale variabile può essere utilizzata tipicamente tipicamente sarà cioè dal punto in cui viene definita fino alla fine della funzione ok? definisco una variabile dentro una funzione quindi da quel punto in avanti quella variabile si può usare è visibile quando finisce la funzione però quella variabile smette di esistere cessa di esistere perché è visibile solamente dall'interno della funzione essendo una funzione locale quindi le variabili locali sono definite all'interno di una funzione e visibili solo dal codice della funzione stessa una funzione non può vedere né modificare né leggere né toccare né conoscere le variabili definite all'interno di un'altra funzione mentre le variabili globali sono definite all'esterno delle funzioni e sono visibili visibili a tutto il codice del programma interno ed esterno le funzioni quindi quando definisco una variabile a uguale 7 fuori da ogni funzione questa variabile a è visibile da quel punto in avanti del programma ma anche all'interno di tutte le funzioni e quindi è preferibile usare variabili locali perché non si rischia di modificare dati non desiderati cioè una variabile globale che è definita da un'altra parte ci sono dentro una funzione magari richiamo un'altra variabile con lo stesso nome e sto andando a pescare una cosa che non c'entra niente solo perché casualmente avevo lo stesso nome visto che noi non abbiamo fantasia infinite nei nomi di variabili abc ijk rischiamo di riusare lo stesso nome e se lavorassimo con una variabile globale usare lo stesso nome significa andare a riusare lo stesso valore invece se sono variabili locali ogni nome è locale è privato è separato rispetto alle altre funzioni infatti quando noi strutturiamo i programmi in varie funzioni con la funzione main facciamo proprio questo sforzo in più di creare solo variabili locali all'interno di tutte le funzioni e non abbiamo quasi nessuna definizione all'esterno delle funzioni tranne magari le costanti in alcuni casi quindi facciamo un esempio se noi abbiamo che ne so il tipico programma in cui all'inizio devo leggere un file e allora io file uguale open di abc.txt in lettura file.close e poi e poi posso avere che ne so contenuto testo uguale file.read e poi return testo ecco una allora in questa funzione qui queste io sto usando due variabili la variabile file la variabile testo e sono entrambi variabili definite dentro una funzione e quindi sono visibili solamente dall'interno di questa funzione se io avessi nel programma principale potrei chiamare leggi e poi se volessi fare print testo non funzionerebbe questo mi darebbe un errore perché perché questa variabile testo ho chiamato la funzione leggi quindi la funzione leggi ha aperto il file ha creato la variabile testo leggendo il file eccetera eccetera ma questa variabile testo non è visibile visibile dall'esterno del programma e quindi una variabile locale in questo caso infatti se lo volessi salvare usare nel programma principale farei t uguale leggi allora potrei stampare print t perché questo t a questo punto è il valore di ritorno della funzione allora scritto così questa t è una variabile globale perché ho scritto questo codice all'esterno di una funzione non sono dentro la def di una funzione sono all'esterno quindi per assurdo ok se io avessi un'altra funzione mettiamo un'altra per non complicarci la vita che facesse print di t questa variabile t non sarebbe un errore ma potrebbe accedere a questa variabile t che è stata definita a livello globale globale cioè fuori dalle funzioni se invece io ok quindi dentro questa funzione in cui questa variabile t non è definita ma è definita a livello globale quindi questa t fa riferimento a questa t che avevo indicato là che crea ovviamente un po' di confusione col codice perché dici ma stati cos'è da dove arriva arriva dal programma principale dall'ambito globale a meno che io all'interno abbia definito abbia ridefinito t uguale a 4 ad esempio abbia creato un'altra variabile locale che casualmente si chiama nello stesso nome nello stesso modo allora in questo caso diventa una variabile locale e questa t fa riferimento alla variabile locale che nasconde quella globale e capite che il mal di testa comincia a crescere perché alla fine cosa fa un'istruzione devo andare a vedere le istruzioni prima e quelle dopo per capire cosa è questa maledetta funzione e quindi si preferisce evitare queste condizioni di variabili globali allora infatti quello che abbiamo imparato a fare è di dire il programma principale lo mettiamo dentro una funzione main ok e così anche il programma principale se definisce le variabili sono variabili locali quindi non c'è dubbio che questa t non possa andare oltre non possa scappare dal main e alla fine come unica istruzione al di fuori unica istruzione globale abbiamo la chiamata della funzione main questo schema qua di lavoro l'abbiamo fatto proprio per avere le variabili isolate separate in ciascuna funzione damiano mi dice ma il programma non viene eseguito dalla prima all'ultima riga in realtà sì ma anche se quando io trovo un'istruzione def eseguire questa istruzione significa leggere e metterla da parte quindi trovo una definizione di funzione salvo la definizione della funzione quindi non eseguo subito il codice della funzione il codice della funzione verrà eseguito quando verrà fatta la chiamata della funzione quindi le funzioni vengono lette dalla prima riga in poi ok e la lettura di un def fa sì che la funzione venga messa da parte salvata ma non eseguita verrà eseguita quando ci sarà l'operazione di chiamata che è indicata qua da 30 seconde e questo è il motivo anche per cui ci serve comunque la chiamata del main perché semplicemente definire il main non lo fa eseguire ma lo devo chiamare questo main in finale tante volte ce lo dimentichiamo diciamo abbiamo scritto un bel programma ma non fa niente eh già perché ha scritto tante funzioni ma non c'è nessuno che le chiama quindi abbiamo tutte le funzioni che vengono definite poi con la chiamata del main viene attivato qua lui crea una variabile locale t chiamando questa funzione leggi che a sua volta crea delle altre variabili locali che sono totalmente disgiunte indipendenti la funzione leggi non può vedere le variabili locali del main e viceversa è d'accordo? ok domanda 7 quali vantaggi e svantaggi fornisce un insieme rispetto a una lista? questa è relativamente facile secondo me quindi un insieme e rispetto a una lista allora i vantaggi e svantaggi beh poi dipende dai casi però sicuramente il set non ha duplicati quindi potrebbe essere uno svantaggio se dovessimo dare i dati duplicati o un vantaggio se invece volessimo evitarli questi duplicati mentre invece una lista può avere duplicati una lista mantiene l'ordine di inserimento cosa è successo? mentre invece un set non mantiene l'ordine è possibile in una lista è possibile posso accedere a un singolo elemento per riconoscendo l'indice mentre invece nel set gli elementi non hanno indice non posso accedere ad un singolo però è rapidissimo controllare se un elemento esiste mentre invece nella lista il controllo di esistenza per sapere se in una lista c'è un valore richiede di leggere tutti gli elementi quindi è più lento l'ultima differenza è che in una lista può contenere qualsiasi tipo di dato mentre il set può contenere solo dati immutabili quindi duple, stringhe, numeri essenzialmente questo è un po' un confronto quali sono vantaggi quali sono svantaggi non ha duplicati può essere sia un vantaggio che uno svantaggio dipende dai casi anche il fatto di poterlo avere dipende dai casi non mantiene l'ordine è tipicamente uno svantaggio mentre l'ordine di inserimento mantenuto è un vantaggio gli elementi non hanno indici non posso accedere al singolo elemento è uno svantaggio chiaramente perché è una cosa in più che posso fare con le liste è rapidissimo controllare se un elemento esiste è un vantaggio perché in realtà sulle liste questa stessa operazione è più lenta può contenere qualunque tipo di dato è un vantaggio delle liste può contenere solo dati immutabili è uno svantaggio degli insiemi le differenze sono essenzialmente l'ordine e i duplicati queste sono le due grosse differenze e il tipo di dati contenuti su cui poi si giocano le varie micro differenze ok 8 8 cosa ci chiede si considerano liste di insiemi di nuovo elencare la differenza da queste due strutture dati evidenziare vantaggi e svantaggi fornire un esempio di dati per cui la presentazione è più opportuno utilizzare una lista e dati per cui la presentazione è più opportuno utilizzare un insieme allora i primi due punti sono gli stessi della domanda precedente il terzo punto lo possiamo fare quindi diciamo che questa è la domanda 7 ma anche la 8 in una lista esempio di dati che sono ad esempio elenchi di nomi di persone e dove ovviamente è un elenco e possono esserci elenchi alfabetici ad esempio allora se dico alfabetico sto presumendo che ci sia un ordine di attraversamento e voglio che quest'ordine venga mantenuto nomi di persone sono nomi che possono essere ripetuti non è colpa mia se per caso mi chiamo nello stesso modo di un'altra persona non devo essere cancellato per quel motivo mentre invece nel caso di un insieme un esempio potrebbe essere qualche cosa che giova dal fatto che i duplicati vengano eliminati che potrebbero essere non so i numeri usciti all'otto per cui io so che quel numero lì non può comparire due volte se vado a vedere in quale cartella nelle cartelle dell'otto della tombola o di giochi simili in ogni cartella non c'è mai due volte lo stesso numero e nell'una non può esserci mai due volte lo stesso numero allora in quel caso ha senso ragionare con insiemi mentre magari voglio sapere se ho vinto se ho fatto un ambo eccetera allora vado a controllare i numeri di una cartella se sono un sotto insieme dei numeri già usciti allora in questo caso il controllo di sotto insieme di appartenenza è immediato mentre invece sulle liste dovrei fare un doppio ciclo è più è più macchinoso farlo quindi a me verrebbero come due esempi diciamo così esemplificativi o molto distanti tra di loro questi due esempi 9 9 ci dice quale tra le istruzioni seguenti permette di creare una variabile D2 che contiene una coppia del dizionario D1 allora commentiamo queste quattro cose per vedere che cosa fanno quindi voglio creare creare D2 come coppia D1 ok? allora la prima istruzione no perché viene creato un alias cioè nel caso di D2 uguale D1 D2 sarà un alias di D1 quindi avranno due variabili diverse che fanno riferimento allo stesso dizionario non è una coppia la coppia indica uno diverso con i tessi valori ma diverso poi abbiamo altre tre forme in cui uso la funzione D2 per creare un nuovo dizionario quindi in questi tre casi effettivamente si crea un nuovo dizionario a partire da che cosa? a partire da una lista di valori a partire da una lista di chiavi oppure a partire dal dizionario stesso e in questi primi due casi credo che non funzioni che sia un errore perché io non posso creare un dizionario partendo solamente da una lista D1.values è la lista dei valori presenti in D1 ok? i valori quindi che stanno a destra del dizionario D1.keys sono la lista delle chiavi però non posso creare fatemelo verificare subito se io avessi una lista 1 2 3 posso creare un dizionario a partire da una lista? no perché dice non puoi convertire il messaggio errore è un po' criptico non puoi convertire una sequenza in un dizionario ma se vogliamo anche intuitivo nel senso che se ti do solo i valori come fai a sapere quali sono le chiavi per creare una copia integrale del dizionario? se ti do solo le chiavi come fai a sapere quali sono i valori? quindi questo è no perché è impossibile creare un dizionario da una lista e mancherebbero le chiavi idem sull'altra parte è impossibile creare un dizionario da una lista e mancherebbero i valori mentre invece questa è la parte giusta ok allora Rebecca mi chiede all'esame potremmo usare la console per verificare domande e teoria? certo che lo potete fare nel senso che voi potete andare tranquillamente nella domanda di programmazione dove c'è Pycharm che sta girando e se volete farvi le vostre prove con Pycharm le potete fare benissimo ricordatevi anche che all'esame avrete e vi conviene come abbiamo già detto a disposizione il foglio con le funzioni in cui ad esempio per questa domanda specifica c'era già la risposta aspettate un secondo che lo trovo informatica ecco qua ad esempio questo è il foglio che potete scaricarvi dal sito questa è l'ultima versione che abbiamo prodotto praticamente nelle vacanze di Natale con qualcosa in più dove in questo caso andiamo a vedere i dizionari c'era proprio la frase di.copy oppure dict.dd restituisce una copia del dizionario ok? quindi già qua ci diceva che per trovare una copia era necessario passare come alla funzione dict un dizionario di era un dizionario non era una lista quindi la dict la posso chiamare usando le parentesi vuote le parentesi tonde vuote per indicare un dizionario vuoto oppure posso chiamare la funzione dict passandoli un dizionario e quindi crea una copia del dizionario stesso quindi in questo caso ce l'avrete già la risposta lì poi passiamo a quella successiva che è la 10 linguaggio python mette a disposizione dei programmatori dizionari e insiemi si richiede di fornire una sintetica descrizione di queste due strutture di dati complessi indicando almeno una caratteristica comune ok allora un confronto tra dict e set dov'è che c'è l'editor qua questa è la 9 o la 10 la 10 quindi dict rispetto ai set vabbè allora i set sono insiemi di valori singoli contiene valori singoli sappiamo che devono essere immutabili eccetera eccetera mentre il dict invece contiene delle associazioni chiave valore quindi è un tipo di dato già più articolato perché è un insieme di valori e un insieme di chiavi è mutabile posso aggiungere cancellare chiavi e modificare valori anche il set è mutabile posso aggiungere cancellare elementi ma non modificarli non posso modificare un elemento perché il tipo di elemento deve essere immutabile quindi non posso modificarlo posso cancellarne uno e inserire un altro quindi il dizionario l'insieme nel suo complesso è mutabile perché posso aggiungere tutti gli elementi ma gli elementi che contiene invece non sono modificabili quindi questa frase è modificare valori è diversa una cosa che hanno in comune è che le chiavi le chiavi sono univoche e non duplicate e negli insiemi gli elementi sono univoci e non duplicati quindi questa è la parte che hanno in comune se vogliamo poi in un set gli elementi non sono ordinati mentre invece in un dizionario le chiavi sono ordinate sono in ordine di inserimento nelle versioni vecchie di python prima della 3.6 era anche vero che le chiavi non erano ordinate come un set invece nelle versioni recenti si è creata questa ulteriore differenziazione direi che questi sono i punti forse chiave un insieme può contenere una lista senza duplicati un insieme non può contenere una lista perché essendo una lista non immutabile non posso creare un insieme che contenga una lista non posso aggiungere una lista a un insieme se io provassi a creare un insieme set ok e potessi provassi ad aggiungere all'insieme una lista lui mi dice che il tipo di dato che sto per aggiungere sia lista è unnashable l'ashability ma è una proprietà dei dati che permette di estrarre un valore univoco però richiede che il dato sia a sua volta immutabile quindi un insieme non può contenere una lista un insieme può contenere dei singoli elementi io posso fare add di 1 add di 2 lo posso fare oppure posso convertire una lista in un insieme b uguale set un set che contenga gli elementi di una lista però alla fine se vado a vedere l'insieme contengono degli interi non possono contenere una lista quindi possono contenere gli stessi dati che c'erano in una lista a patto che questi dati a loro volta siano immutabili quindi interior string o tuple ecco la tupla ha il vantaggio che anche questa è immutabile perché impedisce la modifica dei dati al suo interno però insieme di tuple comincia ad essere cose un po' complicate ok ok passiamo all'ultima credo quale di queste strutture non si può realizzare in python e perché allora anche qua copiamocela così la commentiamo allora un dizionario di liste si può fare intendendo come un dizionario i cui valori non le chiavi sono liste ad esempio che ne so io posso avere un dizionario con i voti quindi un dizionario la cui chiave magari è la matricola 1 2 3 4 5 6 e il valore è una lista che contiene i voti 30 29 30 29 e poi avrò un altro signore che è la matricola 2 3 4 3 2 1 che ha preso invece gli altri voti anche lui quindi in questo caso è un dizionario le cui chiavi in questo caso ho scelto intere e i valori sono delle liste quindi lo posso chiamare dizionario di liste sì un set di dizionari invece questo non si può creare perché un dizionario non è immutabile quindi non si può mettere in un set un dizionario di set sì si può fare nel senso che un dizionario in realtà ho due possibilità in cui le chiavi no no scusate non è vero scusate ho una possibilità sola in cui i valori ma non le chiavi siano dei set non le chiavi perché essendo il set è vero che il set contiene dati immutabili ma lui stesso è mutabile perché posso aggiungerlo e quindi essendo mutabile non posso usarlo come chiave nel dizionario un esempio cosa potrebbe essere potrebbero essere che ne so mi vengono in mente le slide dove c'erano i colori delle bandiere allora voglio sapere che colori ci sono delle bandiere per l'Italia avrò l'insieme composto dai colori rosso bianco verde e ovviamente i colori non ha senso ripeterli non ha senso dire rosso 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 eccetera mentre invece Francia ha come colori l'insieme l'insieme del blu bianco e rosso non importa l'ordine con cui elenco perché tanto dentro un insieme l'ordine si perde immediatamente facciamo attenzione ovviamente che queste parentesi graffe quelle più esterne vengono usate per definire un dizionario perché vediamo che ci sono delle coppie chiave valore separate dai due punti quindi questi due punti fanno capire python che queste parentesi graffe sono un dizionario mentre invece queste altre parentesi graffe sono un insieme perché contengono degli elementi semplici e non delle coppie nome valore separate da due punti una lista di liste vabbè non c'è problema si altro che le usiamo sempre no? per fare le matrici uno due abbiamo visto già prima tre quattro non c'è nessun vincolo no? sugli elementi contenuti una lista anzi una lista di liste è una struttura dati molto molto frequente questa è l'ultima questa sì questa sì sì con la specifica che devono essere valori non chiari questa no quest'altra sì ok ah questi sono i tipi di domande appunto in cui vi si chiede un attimo di riflettere su quello che fate che facciamo sulle caratteristiche dei costrutti del linguaggio le variabili i valori i tipi e le strutture dati essenzialmente le domande in grosso modo gravitano intorno a questa parte allora damiano mi stai dicendo che nell'esercizio di teoria c'era un pdf con esercizio di preparazione non sono sicuro di quale stai parlando allora partiamo da qua no è uno di questi link questo qui il primo o se mi metti il link direttamente facciamo prima sì il primo esercizio di preparazione delle domande di teoria il primo di quelli di programmazione ok adesso lo apriamo nel frattempo rispondiamo who il dizionario non può usare un set come chiave perché un set è mutabile ma le chiavi del dizionario si possono modificare? no allora una chiave del dizionario una volta che ho inserito un elemento nel dizionario quella chiave deve essere immutabile posso aggiungere altre chiavi quindi il dizionario è mutabile perché posso aggiungere una nuova chiave e cancellare una chiave esistente ma una chiave una volta inserita non può più cambiare quindi in questo senso la chiave è immutabile è immutabile non può cambiare la chiave mentre il dizionario è mutabile perché posso aggiungere o togliere chiavi quindi non posso usare come chiave di un dizionario un dato che possa stesso essere modificato ok? quindi quando tu dici le chiavi del dizionario si possono modificare è un po' ambigua la frase nel senso che il dizionario può modificare le chiavi che contiene ma una singola chiave una volta inserita non può non deve essere cambiata io posso aggiungere un nuovo studente con un nuovo numero di matricola ma non posso modificare il numero di matricola di uno studente esistente se seguiamo l'esempio che abbiamo appena fatto l'esercizio allora il primo mi chiedi questo il primo di quelli di programmazione si descrivono i principali costrutti di controllo del flusso nel linguaggio python se è questa la domanda a cui fai riferimento i costrutti di controllo sono if if col suo as e l'if sono for sono while e sono i costrutti diciamo così di controllo del flusso quindi quelli che ti permettono di controllare come viene fatta l'esecuzione quindi sono i cicli e i condizionali essenzialmente poi beh volendo c'è il with c'è il try except che sono quelli un pochino più avanzati soprattutto il try except per la gestione delle eccezioni quindi quelli principali sono i costrutti condizionali quindi if, else e l'if i costrutti di ciclo while e for poi ci sono i costrutti per la gestione delle eccezioni try except si parla di controllo del flusso cioè grazie a tutti questi costrutti il flusso di esecuzione delle istruzioni non è lineare può saltare dei pezzi e può tornare indietro e quindi questi sono i costrutti che servono per controllare il flusso di esecuzione del programma volendo uno potrebbe anche definire la def per creare funzioni come costrutto di controllo del flusso anche se in realtà non lo chiamerei proprio così perché in realtà ti permette di scrivere il codice che poi eseguirai dopo ma sicuramente if, for a while e try except sono i quattro principali qui parla di principali quindi non è necessario trovarli tutti anche perché poi si entra nelle finezze di come è definito il linguaggio ok direi abbiamo fatto un po' una corsa però siamo riusciti almeno a toccare i principali temi i principali esercizi almeno avete un'idea di cosa aspettare dell'esame e del tipo anche di risposta un pochino che ci si aspetta cercate di non fare dei poemi di non allargarvi troppo rispondete nel merito di ciò che viene chiesto se ti dice fammi un esempio fai l'esempio non stai a spiegare se ti chiede spiegare allora spieghi se ti dice dammi calcolo il risultato lo calcoli se ti chiede spiega come è arrivato il risultato devi spiegarlo quindi cercate di non non serve scrivere di più se non è ciò che viene richiesto essenzialmente ok quindi cercate di resistere dal dirama spiego anche questo rispondi in modo puntuale alle richieste sapete che le 3 domande valgono 2 punti ciascuna quindi 2 più 2 più 2 sono 6 punti d'esame che sono legati alla correzione di queste 3 domande che vi troverete all'esame di teoria e poi ci sono i 26 punti la 27 scusate della correzione del programma la 27 più 6 fa 33 quindi partiamo da da un punto di partenza abbastanza non dico generoso perché non siamo generosi ma abbastanza ampio ecco per poter anche contemplare qualche errore che possa saltarvi fuori come vengono attribuiti i punti alla parte di programmazione innanzitutto se il programma funziona cioè se il programma risponde alla richiesta che è stata fatta quindi questo è la discriminante principale se un programma calcola correttamente il risultato allora praticamente avete un ottimo voto poi a parità di questo potremmo andare a vedere ma veramente proprio il punto in più o due punti in più se è fatto meglio se è più chiaro eccetera ma non abbiamo non avete il tempo di fare un programma diciamo così ben ordinato ben documentato eccetera eccetera ok? quindi l'importante se il programma funziona nel senso che calcola il risultato corretto attenzione calcola il risultato corretto in tutti i casi non solo nell'esempio che forniamo noi voi lo fate girare con l'esempio però se ci sono forse dei casi particolari diversi con dei dati diversi il programma deve comunque funzionare correttamente secondo quanto è richiesto nel testo se funziona così avete praticamente il massimo se invece ci mancano dei pezzi o non sono chiari o avete dimenticato dei casi particolari o ci sono dei bachi eccetera allora chiaramente da lì si va a scalare no? andiamo a scendere e quindi dipende chiaramente ci sono gli errori più gravi e errori meno gravi se sono dei programmi in cui leggendoli non si capisce minimamente cosa avevate in testa allora questo diventa anche difficile quantificarlo altri programmi in cui magari appunto avete dimenticato un caso particolare o da un'eccezione in un caso particolare e va bene allora a questo punto è un errore minore altri invece in cui l'algoritmo calcola magari qualcosa di sbagliato e allora a questo punto risulta magari al pelo sufficiente perché magari avete letto bene il file il costituto di struttura dati ma poi quando l'avete analizzata non avete capito la consegna non avete capito come ottenerlo devo dire che le cose più importanti che vengono valutate di più sono gli aspetti di algoritmo chiaramente no? di correttezza del risultato cosa stai calcolando poi in secondo piano invece ci sono gli aspetti diciamo così di forma no? quindi l'estetica del risultato l'ordine del codice eccetera eccetera però come dicevo se avessimo più tempo daremo anche importanza a queste parti ma per ora io mi chiederei di concentrarvi sul far funzionare il codice e ne parliamo meglio domani perché vi do un po' di raccomandazioni il codice semplice non incasinatevi la vita non fatelo più complicato di quanto non sia indispensabile perché poi dopo vi perdete creare mi ricordo degli anni scorsi gente che costruiva dizionari su liste sui dizionari quando in realtà non serviva no? quindi cerchiamo di rispondere alla richiesta senza complicarci troppo la vita Nunzio si può modificare un file di testo anche momentaneamente per generare casi particolari nel programma? assolutamente sì in questo caso io ti suggerirei di creare un file di testo separato tanto voi avete il vostro progetto PyCharm potete fare ciò che volete piuttosto che modificare il file che vi diamo come esempio magari creano un altro e fai sì che il programma legga quell'altro in modo da da poter fare le tue prove ma almeno sai che hai continui ad avere il riferimento che è il file diciamo così di esempio con cui lo facciamo girare inviare quello che ho scritto lo invio sì subito appena finiamo quanto valgono domande di teoria rispetto al programma l'abbiamo detto le domande di teoria valgono 2 più 2 più 2 cioè 6 punti e il programma vale 27 qualora non riuscissimo a finire il programma ma fosse stato correttamente fino a quel punto come viene gestita la valutazione dipende da che cosa hai fatto Alessia nel senso che se hai fatto tutti i calcoli tutti diciamo le strutture dati l'algoritmo e poi non so non hai fatto la parte di stampa è un errore minimo se invece hai fatto benissimo la parte di acquisizione dei dati lettura, controllo degli errori stampe ma non c'è la parte dell'algoritmo quello è un programma da buttare via ok? quindi dipende nel merito che cosa avete fatto non miei colleghi alcuni miei colleghi la pensano diversamente io vi consiglio di concentrarvi sulla parte dell'algoritmo e poi in un secondo momento rifinire l'input quindi controllo degli errori rifinire l'output e farlo dopo perché se vi cominciate a perdere nell'input nella gestione degli errori di ingresso che sono importanti ma poi vi fanno perdere tanto tempo e rischiate poi invece di non avere tempo per fare la parte di algoritmo voi nel dubbio il programma lo consegnate poi sarà poi a me decidere se è sufficiente o no quello che avete scritto all'esame dobbiamo portare il prontuario? sì, ve lo portate ve lo stampate voi noi magari ne avremo alcune copie di scorta ma vi conviene già portarvelo anche perché noi non riusciamo a stamparli a colori quindi verrebbero stampati bianco e nero comunque su altri dettagli a proposito dell'esame ne parliamo domani perché domani parliamo della parte di programmazione della parte dell'esame chi non l'avesse ancora fatto gli chiedo di fare la simulazione di esame che c'è sulla piattaforma exercise del corso entro domani uno perché così provate a usare la piattaforma con lockdown browser che purtroppo se fossimo stati in aula l'avremmo fatto insieme ma a distanza lockdown browser disabilita zoom e quindi non si riesce a fare entrambe le cose insieme quindi dovete farlo per conto vostro provateci così domani mi dite se avete avuto dei problemi nell'usare lockdown browser con la piattaforma e poi giuderemo comunque l'altro esercizio e poi anche qui continueremo a parlare un pochino dei suggerimenti in vista dell'esame facendo la simulazione non mi ricordo se il tempo si è impostato perché nella simulazione che abbiamo questa volta non abbiamo messo le domande di teoria penso che ci sia dello stesso il vincolo di 90 minuti ma non ci sono le domande di teoria quindi diciamo così cronometratevi da soli per essere sicuri ok vediamo se ci sono ancora le domande dell'ultimo secondo altrimenti l'esame dura 90 minuti sì quanti minuti complessivi tra teorie e programmazione vi mando adesso le risposte complete poi le salvo anche sulla pagina del corso ovviamente queste risposte chiaramente non sono ordinate perfette spiegate bene sono state un supporto alla spiegazione quindi non prendetele come ah lui ha scritto quella parola lì in quel punto l'ha scritto così quindi lo devo spiegare anch'io così è semplicemente una traccia per scriverci ciò che ciò che abbiamo fatto e per aiutarci a capire i ragionamenti ok non prendetelo come una dispensa fatta bene con le soluzioni ecco non vale che poi circolasse nel modo sbagliato lo faccio volentieri ma poi gestitela correttamente all'esame eh all'esame sì eh si può chiedere allora eh la maggior parte di voi saranno o in aula o in laboratorio o in live faremo poi i turni sulla base della dichiarazione che abbiate avuto abbiate o non la disponibilità del dispositivo elettronico ehm e ci sarà sempre qualche sorvegliante che da un lato sorveglia nel senso che cerca di non evitare che copiate ma dall'altro lato potete sicuramente chiedere dei chiarimenti rispetto alle domande quindi siamo lì apposta essenzialmente ovviamente non possiamo rispondere sulla su ciò che fate voi ma possiamo rispondere sulle domande che abbiamo fatto noi quindi chiarire le domande sì domande su ciò che avete scritto no non potete chiedere ma qui ho scritto giusto qui va bene no te lo dico poi dopo ma te lo dico dannoti il voto ok allora vi saluto non voglio sforare troppo ehm noi ci vediamo domani solita ora solito canale per l'ultima lezione se non sapete cosa fare oggi ma anche se sapete cosa fare e non l'avete ancora fatto compilate il questionario il cpd buona giornata l'ultima 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 l'ultima